Allora ragazzi oggi a Roma è comparso un manifesto contro l'aborto, è praticamente un'altra trovata di un'associazione, un'associazione provita, non ho sostenuto nessuna associazione provita, non ho sostenuto nessuna associazione provita, non ho sostenuto nessuna associazione provita, non ho sostenuto alcuna associazione provita, è molto diverso. Non mi rompere i coglioni, non mi rompere il cazzo con queste puttanate, sai benissimo che non ho sostenuto nessuno, per cui non continuai a rompere il cazzo, perché non ho sostenuto nessuno, non mi rompere i coglioni, chiaro? Ma che cazzo dici, non ho sostenuto nessuno, ma vai a fare in culo, tu e mio nonno, vai a fare in culo, ma vai a rompere il cazzo, ma vai a rompere il cazzo. Tu l'hai dimenticato, ma vai a fare in culo, rivendicalo, ma non rompermi il cazzo, ma vai, giù, 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 buttate giù il microfono a sto menzognero, altro che fazzare, li dovrebbero portare in tribunale 40 volte per le cazzate che dici, non ho sostenuto nessuno, ma che cazzo c'entra, imbecille, ma non c'entra un cazzo, giù, 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 giù. Giù. Allora, uno di questi che ha presentato questo, che ha dato, ha creato questo manifesto, si chiama Tony Brandi, Tony Brandi, ma non rompermi il cazzo, giù, 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 giù sto cazzo di microfono, giù. Tony Brandi, bravo, sì, Tony Brandi. No, ma non sto calmo un cazzo, non ho appoggiato nessuno, è un altro discorso, non togli nulla, non togli, non ho appoggiato nessuno, continua a rompere il cazzo. Pro Vita, un'associazione Pro Vita, non ho appoggiato nessuno, chiaro? Sono a favore dell'aborto 100.000 volte, molto di più di quanto non lo sia tu, per cui non rompermi i coglioni. Associazione Pro Vita, guidata da Tony Brandi, il quale ha fatto questo manifesto per Roma. Io non capisco che male ci sia in questo manifesto, francamente. Ah, vedi, appunto. No, 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 nel fare... L'hai sostenuto? Vabbè, Ottaviano D'Aleccio, basta, non voglio più parlare di questa cosa, Ottaviano D'Aleccio, dai, ma non voglio litigare. Fallo sentire, ma perché? Ottaviano D'Aleccio, dai, Ottaviano D'Aleccio, no, non ne voglio parlare, non ne voglio parlare, non mi interessa, non mi interessa parlare con te sulla base di menzioni che ti dico. Ma l'avete sostenuto voi, no io? Sì, 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 l'ho sostenuto, sì, l'ho sostenuto, sì. Non ero io a Verona, ragazzi, sono! Sono contro l'aborto, sono contro l'aborto, sono contro l'aborto. Io non andrei mai a una cosa di cui c'è gente che è contro l'aborto. Sono contro l'aborto, te lo dico così sei contento, Ottaviano D'Aleccio, dai, Ottaviano D'Aleccio, tanto. Se non dici così non si azzitta, così l'ho azzittito e non rompe il cazzo, dai, Ottaviano D'Aleccio.